L'edizione 2023 della NJPW Cup è andata agli archivi, tanti sono stati magari i punti emersi e chiederanno sviluppi comunque poi anche in ottica del prossimo evento grosso della New Japan, ovvero Sakura Genesis, ma intanto a mio avviso secondo me c'è qualcosa in particolare che merita un approfondimento, uno sguardo magari più approfondito. Bentornati e bentornate quindi su Wrestling Unico Amore per un nuovo video con voi il vostro Draco per condurvi dentro un nuovo approfondimento e cercare di vedere se darà magari degli sviluppi futuri un po' più concreti o se sarà magari qualcosa di importante in questo momento strettamente presente. Andate appunto agli archivi, l'edizione 2023 della NJPW Cup che decreta il prossimo sfidante per il titolo mondiale della NJPW detenuto in questo momento da Kazuchika Okada, a ottenere la vittoria alla fine dopo una combattuta battaglia anche molto buona con vari momenti incerti e sanata, che affronta David Finlay che in questo momento ha provato a prendere in mano un po' la situazione, gli sviluppi che attendono il Bullet Club per questo 2023, sta cercando di consolidare la sua posizione, ma sanata in qualche modo per via del percorso fatto proprio durante questa cup, già sulla carta, era quello che in qualche modo un po' ci si poteva aspettare come vincitore finale, meritatissimo anche tra l'altro comunque una battaglia molto ben combattuta sia da un punto di vista anche di strategia, oltre che magari di colpi e manovre di impatto eseguite durante il match, sanata e il percorso che ha fatto però appunto in questa NJPW Cup. Beh, sanata diciamo che fino a questo torneo sostanzialmente, dato che ora le cose hanno avuto un po' un, come dire, uno scossone le situazioni intorno a lui e all'interno della NJPW, beh, faceva parte della stable dell'Hossing Governable Seapon, guidata da Tetsuya Naito e fondata da lui ormai diversi anni fa, e sanata un po' come tanti, come Hiromu Takashi, come Shingo, ha cercato fortuna, ha cercato di consacrarsi in NJPW facendo parte di questa stable e per certi versi comunque per alcuni momenti è andata anche abbastanza bene per lui, è arrivato comunque in finale di diversi tornei, anche se soprattutto tornei di coppia, dove poi ha ottenuto la vittoria insieme a Evil, da quando Evil poi ha lasciato i Rossing Governables per riunirsi al Bullet Club, ha cercato di arrivare quanto più avanti possibile anche con la competizione in singola, anche qui alcune volte ha spiorato anche consagrazioni importanti, per esempio nel G1 Climax del 2020, dove poi purtroppo Kota Ibushi ha avuto la meglio su di lui, ma anche in altre occasioni è arrivato a vincere anche il titolo IWGP US, salvo poi doverlo cedere dopo poco tempo per via di un infortunio all'occhio che l'ho obbligato a stare fuori, e in questo torneo sanata un po' rivendi che cerca di rifarsi già in qualche modo di tutte le sconfitte, di tutte le situazioni che non sono andate bene in passato, e lo fa partendo da un momento di grande impatto, ovvero la vittoria su Tetsuya Naito all'interno proprio della New Japan Cup, si affrontano nella non aggiornata, nel main event, che è un po' la parte buona che se volete potete recuperare di quella giornata, diciamo che il torneo nelle prime giornate non è stato molto interessante, dalla settima, dall'ottava in avanti inizia a emergere qualcosa di un po' più interessante, anche proprio in generale, anche in altri match delle card, la non aggiornata però avendo ancora Evil all'interno del torneo, che viene mandato a casa da Mark Davis, Gaudi e Tripudio, poi nel resto comunque non ha ancora molto altro di vivace, tranne appunto un main event molto bello, molto combattuto da Sanada e Naito, vinto da Sanada dopo aver connesso una DDT di grande impatto, e aver prima indebolito anche Naito con la Dragon Slipper, che è una manovra di sottomissione che lui utilizza molto spesso, indebolisce Naito, riesce a connettere una DDT molto bella, molto di impatto, anche proprio visivamente connessa poi da un atleta comunque alto, robusto come Sanada ancora di più, alla meglio su Naito, ma non si preoccupa minimamente delle condizioni comunque del, comunque del suo compagno di stable, magari al di là delle gerarchie all'interno del gruppo, ma comunque in generale un suo compagno, viene raggiunto invece dai Just Four Guys, un gruppo guidato da Taichi diciamo in un certo senso, anche se alla fine è composto dalla maggior parte degli oramai sciolti Suzuki-gun, però diciamo magari in qualche modo guidato da Taichi, che nella prima giornata, se non sbaglio comunque nel corso della NJPW Cup, si è scontrato con Sanada, ottenendo da lui una stretta di mano, un momento che in qualche modo deve essere adito magari di altre situazioni comunque in futuro, ma qui avviene il plot twist magari un po' più grande, perché si va oltre la stretta di mano, Sanada si unisce proprio di fatto, anche già solo con le azioni, andando dalla parte dei Just Four Guys, è come se inizia da subito a far parte del gruppo e all'arrivo di Shingo e di Hiromu Takashi, comunque degli altri L.I.J., lui chiarisce effettivamente la sua volontà, ovvero quella di lasciare il gruppo dei Lost In Governable, se unirsi ai Just Four Guys, che sostanzialmente da adesso diventano Just Five Guys, visto che c'è anche Sanada, e poi tutti insieme, tra l'altro anche prima della finale della NJPW Cup, hanno posato tutti insieme all'ingresso, facendo anche un po' la taunt della stable, quindi sostanzialmente Sanada da subito fa un passaggio molto netto, che non tutti prendono allo stesso modo all'interno degli L.I.J., perché Shingo è palesemente irritato comunque dall'azione di Sanada, e secondo me potrebbe anche essere quello che poi più avanti porta a una separazione violenta, che finora non c'è stata, comunque è stata molto diplomatica, anche perché Naito, poi nelle conferenze stampa successive, ha fatto notare come magari Hiromu Takashi, ma Shingo in particolare, visto che si tratta comunque della competizione dei Paesi Massimi, quella di cui fa parte Sanada, così come anche Naito, beh, Shingo comunque ha ottenuto diversi successi nei loss in Governables, quindi Naito in qualche modo ha cercato di portare avanti comunque l'onore della sua stable, dicendo che alla fine se Sanada non ha brillato con loro difficilmente, magari lo farà in un altro gruppo. Intanto arriva alla vittoria della NJPW Cup Sanada, punta quindi Kazuchiko Okada, cercando in qualche modo così di mostrarsi credibile e dare seguito con i fatti alle parole, tanto che appunto questa uscita dai loss in Governables è proprio per cercare, suo dire, di iniziare a colmare un po' di più il divario che c'è fra lui e un Okada, che è già arrivato comunque, direi, a un punto molto in alto, decisamente alto, quindi un proposito molto ambizioso quello di Sanada, fosse anche solo in questo momento per ottenere la vittoria del titolo, però in qualche modo cerca di mostrarsi credibile contro un Okada che è tornato ormai ad essere in uno stato di grazia molto grande all'interno della NJPW, ha avuto qualche problema anche fisico fra 2020 e 2021, adesso però sembra decisamente al 100%, quindi a vedersi cosa accadrà a Sakura Genesis, dove i due si affronteranno quello che presumibilmente sarà il main event, comunque del dell'evento, e poi in qualche modo quali saranno le dinamiche dei ormai i Just Five Guys, che non ruotano magari in questo momento in direzione di collisione con i loss ingovernables, però sono tante le fazioni comunque all'interno della NJPW che stanno cercando di ottenere quanto più spazio possibile, siamo in ottica Best of Super Juniors, quindi in qualche modo potrebbero entrare in collisione presto con una delle altre fazioni all'interno della NJPW. NJPW. Questa è un po' una prima parte diciamo un po' più analitica su cui si può fare maggior discussione emersa dalla New Japan Cup, io come sempre comunque vi ringrazio per aver lasciato una visualizzazione dei nostri contenuti, ci potete dare un'ulteriore mano però magari con un like o anche un commento su in generale quello che ne pensate del tema trattato, le opinioni espresse, insomma tutto è graditissimo per cercare di avere un dialogo quanto più grande possibile, se lo volete fare in modo quotidiano oltre ai nostri social Facebook e Instagram ci potete trovare anche su Telegram dal link qui sotto in descrizione. La vostra track è tutto, per questo primo appuntamento dedicato alla New Japan Cup ci fermiamo qui, ci riaggiorneremo per diciamo un contenuto un po' più vario su altri punti emersi da questa edizione 2023 del torneo. Grazie ancora per aver visualizzato e alla prossima.